Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo alla penultimo appuntamento della rassegna La musica si racconta, questo ciclo di incontri di e intorno alla musica, organizzati dal Comune di Brescia in particolare, dal Musica in Comune che è lo sportello per la musica del Comune di Brescia, sta all'interno del servizio promozione della città ed eventi. Penultimo appuntamento, oggi parliamo, questa sera parliamo di registrazione sonora, di studio di registrazione, di produzione sonora, tutto quello che sta intorno all'oggetto suono e lo facciamo con tre ospiti che vi presento subito e sono Piero Chianura, Stefano Castagna e Paine Quadrelli che sono molto contento di avere qui questa sera, ci siamo inseguiti quasi per un anno ma non solo per colpa mia o loro ma anche per colpa di eventi che ci auguro mammo potessero non succedere e quindi sono molto contento che questa sera sono qui con noi. Vi ricordo soltanto l'ultimo appuntamento che è la settimana prossima, il 22, e un altro ospite molto gradito, Stefano Zenni che è uno dei più importanti musicologi italiani nell'ambito del jazz e ci presenterà un incontro a quasi 100 anni dalla composizione della Rhapsody in Blue di Gershwin e sarà un incontro tutto incentrato sulla Rhapsody in Blue e sulle mille influenze che la musica di Gershwin in particolare in quest'opera tiene in considerazione. Quindi vi invito a partecipare ancora la settimana prossima e buon ascolto per questa sera. Grazie. Grazie. Buonasera, grazie di essere intervenuti. Facciamo una piccola presentazione di nuovo delle persone che vedete su questo palco. Io sono Piero Chianura, sono musicista giornalista, lavoro da ormai oltre 35 anni, forse anche 40, nell'editoria musicale specializzata peraltro nella produzione musicale, quindi dalla parte dei lettori musicisti e fonici, quindi ho fatto un percorso molto lungo di approfondimento su questi temi. Con me accanto c'è il grande Stefano Castagna che è un produttore, sound engineer, titolare dello studio Ritmo e Blue. Mi verrebbero delle parole di encomio da raccontare subito, ma non le dico. Qui abbiamo Paine Quadrelli che è un DJ producer, sound engineer e nonché responsabile del corso di sound design dello IED di Milano. Quindi sono tre figure complementari sul racconto che noi andremo a fare. Il titolo, lo studio di registrazione da Abbey Road all'home studio, è stato modificato nell'evolversi dello studio di registrazione, siamo arrivati in una fase che abbiamo considerato mobile recording per ragioni che vi racconteremo. Anche Abbey Road in realtà è un punto di partenza relativo. Vero Stefano? Hai un microfono tu? Sì perché in realtà non partiamo da Abbey Road ma abbiamo pensato di partire un po' da prima, cercando di creare un percorso un po' più di consapevolezza. Quindi mi viene da fare una prefazione prima di raccontare in termini più tecnici le cose che ci siamo prefissati. Mi viene da farvi immaginare come poteva essere il mondo prima della registrazione sonora, prima di avere la possibilità di mettere su un disco, di accendere un mp3, di accendere il computer, di accendere la radio. Quindi un mondo, e stiamo parlando della fine dell'ottocento, in cui le persone per poter sentire musica o per, con lo stesso modo, per poter vedere immagini perché sono due mondi che vanno assieme, quello dell'immagine, della fotografia, delle rappresentazioni grafiche e quello della musica. Per poter vedere o sentire queste cose doveva andare in chiesa, non so, a Natale, per Pasqua, quando c'erano i cori o quando c'erano cantastorie o quando c'erano dei musicisti. Cioè era impossibile, era un mondo che per noi adesso è inconcepibile, era impossibile pensare di andare a casa e pensare di ascoltare della musica. Cioè, a meno che uno non avesse un quartetto d'arche a disposizione per farlo suonare. Non esisteva il mondo della riproduzione, insomma, ora? No, assolutamente. L'uomo ha sempre cercato di poter avere delle macchine, perché ancora prima di costruire quello che noi conosciamo bene, che sono il vinile, il CD o tutti gli altri apparati e supporti che conosciamo, ha costruito macchine, tipo pianole meccaniche, perché è sempre stato una cosa, un desiderio tutto sommato intrinseco, quello di avere delle macchine che potessero riprodurre comunque musica senza il bisogno di avere dei musicisti. Esattamente. Però prima di partire con il nostro percorso storico, volevamo, dopo esserci presentati noi, capire con chi abbiamo a che fare, perché abbiamo, come dire, anche la necessità di capire che il linguaggio utilizzare è fino a dove spingerci nelle descrizioni tecniche, eccetera. Quindi abbiamo preparato tre domande a cui vi chiediamo di rispondere con la classica mano alzata. Chi ascolta musica ma non ha idea assoluto di significati tecnici che riguardano il mondo della registrazione? Chi è musicista, quindi crea, ma non ha una conoscenza così approfondita del mondo, soprattutto della storia della registrazione audio? E chi infine potrebbe essere qui al nostro posto per parlare delle cose? No, senza timidezza, cioè chi ne sa abbastanza. Ok, ok. Abbastanza vista come è la situazione. Dai, va bene. Grazie, grazie, così adesso ci prendiamo le misure. Allora, e quindi l'oggetto di questo incontro è come, quindi questo vale per tutti, come l'evoluzione tecnologica e le innovazioni tecnologiche hanno cambiato il modo della, il mondo della produzione, quindi della creazione musicale, ma anche parallelamente il mondo dell'ascolto, cioè di chi poi ascolta la musica, perché sono cambiati i formati, ovviamente è cambiato anche l'approccio dell'ascoltatore. Qui parte, partiamo la nostra storia, iniziamo la nostra storia, no? C'era una volta. C'era una volta. Dunque, avevamo, abbiamo identificato tre, in qualche modo, tre macro aree, no? Dove poi noi ci muoveremo nella storia, no? Painei. Sì, diciamo, in modo veramente grossolano. Io faccio una premessa, una postfazione alla premessa. Ovviamente siamo qua per condividere un racconto di fatti, di innovazioni, di tecniche e tecnologie, che da un lato procederà in senso cronologico, ma qua mi dichiaro, non vuole essere una wikipedia tridimensionale su delle informazioni nazionistiche. Il nostro interesse, soprattutto nelle varie momenti che abbiamo avuto di conversazione, era riuscire a tracciare delle traiettorie, partendo da una serie di punti sparsi nel tempo e collegare con dei fili una serie di momenti di innovazione, di sviluppi tecnologici che poi hanno determinato un diverso modo di fare cose sonore e di ascoltarle. rilancio, diciamo, sul macroschema. Abbiamo individuato tre zone, una meccanica, quindi la prima parte, diciamo, sostanzialmente tra l'800 e l'900, dopodiché la fase elettrica, in cui poi andremo a scoprire dettagli e poi la fase digitale. Quindi, diciamo, partiamo da questi tre macro tempi per poi andare ogni tanto avanti indietro e vicino e lontano. Ci sono nelle prime due macro aree, quella meccanica ed elettrica, c'è un elemento condiviso che è quello dell'incisione, della registrazione, cioè vengono incisi o in maniera meccanica o in maniera elettrica, dell'informazione all'interno di solchi. Questo riguarda sia i primi, adesso poi vediamo tutti i supporti, riguarda il vinile come riguarda il CD, perché è il laser che poi crea, diciamo, un solco all'interno dell'era. Dall'era digitale in poi c'è uno stravolgimento totale anche nella memorizzazione dei dati, perché si passa alla memorizzazione dei dati digitali, quindi numerica, e da lì ha inizio veramente la rivoluzione, perché stiamo parlando anche, non è un caso, è anche la modalità di registrazione del supporto che cambia completamente e quindi stravolge completamente l'approccio nei confronti dell'ascolto musicale, che vedremo successivamente. Noi partiamo da questo oggetto, bufo, va bene, sì sì è così, questo lui, allora, questo è il fonautografo, è il primo oggetto di memorizzazione dati, non è un apparato di registrazione in grado anche di riprodurre quello che registra, ma qui c'è un rullo, una ruota, sopra la quale è posizionato una specie di foglio carbonato, dove una punta di incisione, attraverso l'ingresso di elementi sonori, quindi di forme, diciamo, di onde sonore, viene, la membrana viene sollecitata e viene fatto un disegno del suono che viene registrato e questo disegno allora non si poteva riprodurre, era semplicemente una registrazione, una rappresentazione grafica, solo qualche anno dopo, attraverso il computer, questa cosa viene, diciamo, cercata di, viene rappresentata e viene trasferita. Con le forme d'onda che vediamo adesso nei file audio, che sono un codice, insomma. Esatto, perché qui ci sono proprio, vedete il mio cursore, qui ci sono proprio i disegni delle... Ma la cosa curiosa è che questa macchina fa vedere il suono ma non lo fa sentire. Esatto. Quindi la ricerca proprio fatta agli albori del cos'è il suono e che cosa possiamo fare con lui. Esatto. E siamo nel 1850, intorno, ecco le date, come diceva Prenesson, da prendere ecco le pinze. Perché non si evolve questa cosa? Perché subito dopo, questo era l'inventore di questo fonautografo, del primi dell'Ottocento, perché subito dopo arriva il... scusate... arriva il fonografo, ok? Questo. E questo sì, attraverso i cilindri di cera, era in grado non solo di registrare, ma anche di riprodurre. La cosa che dicevo prima, che riguardava il meccanismo di incisione, è proprio questo. Poi me lo spiega perché non me lo fa, va bene lo stesso. Eccolo qua. al di là del suono che ascoltate, che è quello di una voce umana, questa è la membrana che vibra con l'arrivo delle forme, diciamo, delle onde sonore e la punta incide un solco. Poi avviene il procedimento inverso. Questo procedimento di registrazione e di riascolto, attraverso questo cono di ingresso che è anche il cono di uscita del suono, avviene sia per la registrazione del fonautografo, sia del fonografo, sia del giradischi, quindi del grammofono, che era il primo progetto su dischi, fino alla, diciamo in qualche modo, al vinile e anche al CD. Questo comunque è il processo. Qui ci sono delle frasi descrittive che riguardano il fonautografo, ma non ci interessano nello specifico. Anche lì guardando a fondo comunque lo vedi la forma d'onda, però ci vuole quell'apparecchio di chi fa i transfer, nel solco, sul disco. Esatto. Andiamo velocemente sulla parte del periodo meccanico, diciamo. Questo era il grammofono e il principio è lo stesso, cioè su questo disco la puntina incide un solco che poi viene riprodotta e attraverso questo, che è sia l'elemento che l'elemento poi di riproduzione e di amplificazione del suono acustico, abbiamo comunque un meccanismo di tipo meccanico. Diciamo che quello, vedere il grammofono, siamo in un ambiente che tutto sommato tutti conoscono. Quello che è un po' più strano e che magari non si sa è come venivano registrati questi dischi, perché ovviamente non era meccanica, non c'è la corrente elettrica con cui elaborare, con cui avere motori, quindi era tutto completamente meccanico, non c'erano i microfoni e l'unico microfono che possiamo pensare come microfono è appunto quella tromba che vediamo, in quel caso lì appunto un grammofono alla rovescia, che cattura il suono e attraverso una membrana, come spiegava prima Piero, incide sul. Ma il problema, adesso qui vediamo, lei si chiama Desneu, non mi ricordo il nome, questa è una ricercatrice che ha documentato tutti i canti esindiali d'America, ma quando si trattava di registrare un'orchestra i problemi erano ben diversi, perché questa è una voce umana e ha delle caratteristiche fisiche di un certo tipo, problematiche limitate, ma quando c'è un'orchestra, eccola, i problemi insomma aumentano mica da ridere, perché dinamiche, distinzione degli strumenti, spostamento nello spazio, sono tutti problemi che devono essere risolti in un modo molto più elaborato che non la registrazione di una voce. Tant'è vero che, adesso qua non so se si vede, ma gli strumenti che fanno, che hanno più volume, di solito veniamo messi più distanti rispetto alla tromba che catturava il suono, perché altrimenti avrebbe fatto saltare la testina e non si sarebbe più potuto registrare. Esatto, e anche per esempio la posizione dello strumento con le note più gravi è un po' più elevata perché il suono tende ad abbassarsi, a diffondersi in maniera, diciamo, multidirezionale o multidirezionale, invece in questo caso riesce a prendere la posizione. In questo caso questo cono riceve il suono acustico dell'orchestra e va a registrare un disco di cera. Ricordiamoci che è tutto meccanico, cioè non c'è niente di elettrico in questa fase qua e malgrado stiamo parlando della preistoria della riproduzione dell'audio, non dobbiamo dimenticarci che comunque lì nasce già un fiorente mercato discografico, cioè l'industria discografica vende un numero elevatissimo sia di rulli sia di vinili, di vinili, di ceralacche quando vengono prodotte. A noi fa impressione pensare che però per loro quella era la qualità del momento, cioè il livello qualitativo della musica che veniva riprodotto allora per noi adesso fa sorridere, però allora era una qualità altissima. Poter mettere su un disco o un rullo in casa e risentire un'intera orchestra era una possibilità pazzesca, insomma. Qui stiamo parlando del periodo, diciamo, prima del 1920-25, dove Caruso aveva già incominciato a registrare i suoi dischi e venderli con la Gramophone, poi diventata Victor, e quindi stiamo parlando, come diceva Stefano, della prima vera distribuzione commerciale a grandi numeri, diciamo, della musica. E la musica jazz si incomincia a registrare intorno al 1915-16. Comunque in quegli anni, e qui c'è una bella parentesi anche da fare... Diciamo che il fenomeno appunto bisogna veramente chiudere gli occhi e tornare molto indietro, ma uno dei fatti più impressionanti dell'avvento del supporto, diciamo, della registrazione è sostanzialmente la possibilità mai avuta prima di avere una macchina del tempo, cioè una cosa succede in un luogo, in un momento, in una città dell'Italia, per esempio la registrazione di Caruso, e in un altro tempo qualcuno può vivere, ovviamente una versione ridotta, però per i tempi abbastanza impressionante, miracolosa, di un avvenimento che è successo altrove. Questo rimane, a mio avviso, tuttora uno dei fenomeni interessati della questione della registrazione. Cioè io sono qui e ascolto una cosa che è successa là, tanto tempo fa. e al di là del fatto di definire un po' l'inizio dell'idea dell'industria discografica, un po' come l'abbiamo conosciuta, questo è uno dei due elementi un po' magici della questione della registrazione. L'altro è la radio, che infatti, come dire, aggiunge o alterna alla macchina del tempo, la questione del teletrasporto, diciamo dell'audiotrasporto. Oggi è la giornata mondiale internazionale della radio, e ne parlavamo oggi. Di fatto queste due innovazioni rimangono tuttora, nelle versioni anche più rinnovate, remixate, aggiornate, comunque due elementi di grosso interesse. Uno, la macchina del tempo, che è il supporto, un altro appunto il teletrasporto, se noi pensiamo al podcast di adesso o a tutte queste cose. E quindi diciamo, cento anni fa circa, iniziavano a succedere queste cose che in qualche modo poi andavano delineando quello che sarebbero state poi un sacco di altre innovazioni. Diciamo, il decennio di grande esposizione della radio è considerato sul ventennio tra i 20 e gli anni 20 e gli anni 30, e nello stesso periodo nasce l'era elettrica, come noi definivamo appunto. Però un altro elemento di differenza, che dal primo periodo, quello meccanico, a quello poi invece radiofonico e di distribuzione della musica attraverso i supporti, è che inizialmente la musica era, comunque la registrazione, scusate, la registrazione audio serviva solo come elemento documentale, cioè si aveva la necessità di documentare qualcosa che accadeva in un luogo molto distante, tra persone molto diverse da noi, come esprime questa foto in maniera chiara, e soprattutto appunto si faceva documentazione etnica in qualche modo. Questa registrazione è una delle prime... l'audio? Ok, alziamo un po' l'audio. Questa registrazione che vedete nella foto è stata fatta attraverso un cilindro. del nostro periodo, come ci siamo a tutti i nostri nomi. Se ricordi delle nostre nomi, come un'attività di pratica... Se ricordi delle nostre nomi, come un'attività di potere, come un'attività di potere, come un'attività. E questa era una registrazione appunto di questo capo indiano fatta dal Desmoor. Il ragionamento della registrazione in carattere documentaristico sono oltre in questo caso specifico che effettivamente, ma anche le orchestre che si registravano allora o la musica in generale che si registrava allora, riprendeva quello che doveva essere il massimo della possibilità della realtà. Cioè non c'era nessuna manipolazione del suono, non c'era quell'idea che nasce dopo, intorno agli anni, fine degli anni 60, metà anni 60, di poter lavorare sulla musica, adesso lo vediamo con l'era elettrica, cioè allora un'orchestra suonava e chi registrava l'orchestra realizzava il più possibile in maniera fedele quello che l'orchestra faceva. Non c'era nessun tipo di elaborazione, tant'è vero che veniva direttamente fatta la matrice su... c'era l'h che poi serviva per fare i positivi per l'ascolto. Nell'era meccanica quindi c'era questa tromba acustica che faceva muovere una membrana, c'era una puntina di incisione che incideva un solco su un materiale e viceversa poi nella riproduzione, dal solco si leggeva con la puntina di lettura, si passava dalla membrana, diciamo si muoveva e riportava all'esterno il suono. L'era elettrica, che indicativamente facciamo partire intorno a metà degli anni 20, aggiunge questo elemento che è il trasduttore, il cosiddetto trasduttore, cioè il microfono elettrico in ingresso. Il microfono trasduce, quindi cattura il suono della realtà acustica, dell'ambiente acustico, dello strumento acustico, lo amplifica attraverso, all'epoca c'erano questi amplificatori a valvole, di fatto, e lo porta attraverso il sistema di registrazione che aveva anch'esso una testina di incisione, anziché incidere elementi semplicemente dei solchi di varia profondità e larghezza, incide dei dati elettrici e questi dati elettrici vengono poi, nella riproduzione, riproposti al contrario, quindi vengono riletti da una puntina di, una testina di lettura, attraverso il disco in vinile o quello che era il supporto, e riproposto non da un microfono che era quello che lo prendeva, ma da un amplificatore, cioè quello che lo tirava fuori. Questo sistema è anche quello che usiamo anche adesso. C'è anche da dire che l'altoparlante è un microfono alla rovescia e viceversa. Esatto, esatto, e quindi si chiama trasduttore in ingresso e trasduttore in uscita, esattamente per questa ragione. In quell'epoca, intorno agli anni 30, nasce anche il concetto di registrazione stereofonica. Ora, tutte queste date le prendiamo sempre un po' così, ma diciamo c'è il fatto che si incomincia a ragionare sulla riproduzione della realtà così come noi l'ascoltiamo attraverso i nostri rechi, con tutte le pesature che possiamo fare su quello che è l'AR, perché potremmo dedicare una giornata intera alla, diciamo, alla imprecisione del sistema della registrazione e riproduzione stereofonica, che non è esattamente quello che fa il nostro apparato uditivo, però nasce, diciamo, l'idea della registrazione stereofonica. Sì, porto una curiosità rispetto alla registrazione stereofonica. Una delle prime, sembra, in base a quello che ho letto io, di registrazione stereofonica, che siccome non c'era ancora il concetto della stereofonia come ce l'abbiamo noi adesso, ma c'era questo concetto della possibilità di creare una situazione spaziale nell'ascolto. Una delle registrazioni che, tra l'altro, ha avuto anche un successo discografico, era la registrazione di un treno, l'arrivo in stazione di un treno, catturato con tre microfoni, uno all'estrema sinistra, uno in centro e uno all'estrema destra, l'arrivo del treno e la ripartenza del treno, che aveva un realismo che era impressionante ed è una delle prime registrazioni in cui si sperimentava la stereofonia, perché a quell'epoca non c'era ancora l'idea dell'avere la chitarra da una parte, la batteria da una parte, cioè era un concetto che doveva venire ancora, doveva passare ancora tanti anni. Comunque questa è una delle prime cose, prima registrazioni. Peraltro adesso noi diamo per scontato che ci sia il mixer a destra e a sinistra, ma allora tutta la catena di collegamento era una catena a tre elementi che andavano a finire su due, diciamo, due elementi soli in un sistema di collegamento che non era certo il mixer, no? Quindi dicevi Paine. Beh, diciamo come un po' il fin dei fratelli Lumiere, un po' questa registrazione a livello di sciocca. Sempre un treno. Volevo dire che, diciamo, metto lì un pezzo che poi tornerà, che è l'idea dell'alta fedeltà, cioè questa cosa che poi ha ossessionato moltissimi per tanto tempo, da un certo punto in poi arriva l'idea di avere una registrazione che è più vera della realtà. Poi dopo succedono tante cose, però proprio il tema della stereofonia all'alta fedeltà, c'è proprio tutta una strada in cui ci sono, finalmente, mano a mano, strumenti per avere e la registrazione e la riproduzione a casa di qualcosa che fino a un certo punto era molto nuovo, quindi andava bene, però evidentemente in tutta una prima fase era assolutamente poco soddisfacente rispetto all'esperienza di un concerto. Cioè io andavo a sentire l'orchestra, la banda, eccetera, avevo un tipo di pressione, di definizione, esattamente come se non abbiamo un musicista qua davanti a noi, i primi supporti, era bello rispetto a niente, cioè non posso andare a Boston alla scala o qualcosa, però a un certo punto appunto, da quando arrivano i microfoni e tutta una serie di sistemi, inizia ad avvicinarsi sia in chi fa, ma soprattutto in chi riceve, ascolta, inizia a farsi stare a questa idea di avere un'alta fedeltà, quindi una qualità di un certo tipo. E se consideriamo il percorso della registrazione audio collegato al percorso artistico, ci sarebbe da riflettere su queste onde, diciamo, che nel corso della storia e della produzione della musica hanno invaso un po' il mondo della creazione, in cui si è passati da un eccesso di tecnicismo aspirante alla realtà, all'iperreale in qualche modo, a un ritorno al grezzo, all'ho-fi, verrebbe da dire, a un periodo in cui nella produzione musicale questo aspetto del deve essere al massimo della qualità possibile lasciava invece posto al deve essere il massimo dell'emotività possibile, anche se grezza, eccetera. E questo elemento, un elemento che veramente cambia le mode, cambia le tendenze musicali, soprattutto in ambito pop, mi verrebbe da dire, no, popular, non della musica classica, ma se avete poi qualcosa a dire a riguardo, questo per esempio è un elemento che accompagna sempre le evoluzioni tecnologiche, fino a un certo punto, come diceva Paine, se correggimi se sbaglio, questa crescita tecnologica era prevalente, cioè oggettivamente gli sviluppi tecnologici portavano dei miglioramenti qualitativi, ci facevano sentire delle cose che non riuscivamo ad ascoltare prima. Da un certo punto in poi queste cose, anche per esperienze personali, perché quanti di noi hanno avuto la fortuna di sentire in una sala, in uno spazio acusticamente trattato con un sistema di diffusione audio di altissima qualità qualcosa che era come avere la band o l'orchestra lì, quanti noi hanno avuto questa fortuna? Non tutti, non molti. E quindi quello che ha avuto quella fortuna avrà alzato il livello di aspettative, ma quello che ha ascoltato, il ragazzo che ha ascoltato sempre musica con un sistema di diffusione di qualità più bassa, non avrà le stesse aspettative, quindi si accontenterà, tra virgolette, di ascoltare la musica che a lui piace, nel modo in cui è abituato ad ascoltarla. Sì, diciamo che ci sono comunque due flussi sempre paralleli. Un fatto è che indipendentemente dalla tecnologia poi proprio l'evento dell'accadimento musicale è una cosa che comunque va bene di per sé. Poi dopodiché ci sono tutti i gusti, le possibilità, esattamente come io da ragazzino, io sono uno, un tipo del 76, per cui ho avuto il Walkman, quelle cassette, eccetera, poi ho provato tutta un'altra serie di cose. Però anche l'audiocassetta, comunque per me era molto emozionante, intima, esattamente come è lo Spotify di un ragazzo di adesso, per un audiofilo, il mio Walkman, senza la cassetta ferro, ultra, eccetera, horror, registrata dalla radio, con le interferenze, per me era il massimo della vita. Quindi secondo me succedono sempre questi cicli, come dire, di salita e discesa, però l'unico punto fermo è poi una zona che è la relazione emotiva, personale, che le persone hanno con la musica. Quindi questa è la radiolina, o il Dolby Atmos, comunque, se ci vuoi sentire qualcosa, ce lo senti. E visto che hai parlato dell'audiocassetta, noi siamo arrivati agli anni 40, dopo la seconda guerra mondiale, in cui pare, nella storia, pare che tutto si sia interrotto, perché c'è stata la guerra. Ecco, questa è un'altra riflessione che facevamo oggi. Io la farei. Cosa ci è arrivato dalla storia e cosa non ci è arrivato e cosa quando noi cominciamo a scoprire che in qualche paese del mondo è successo qualcosa che noi non sapevamo in un periodo in cui a noi non era arrivata quella notizia, no? Per cui, non so, appunto oggi facevi questo esempio, no? Dell'Unione Sovietica, dello sviluppo, non so, anche dei sintetizzatori, mi dice, cose che accadono e che noi non conosciamo. Quindi prendiamo sempre con le pinze, come dicevi all'inizio, tutta l'informazione, anche quella che noi abbiamo assunto, che stiamo dando. Però, questo nastro magnetico che nasce proprio dopo la guerra, arriva, sembrerebbe che sia, che fosse arrivato così, cioè, che gli americani, dopo aver vinto la guerra, hanno fatto razzia di tutto di più dalla Germania nazista e hanno scoperto che c'erano questi due registratori a bobine e a nastro, dove i tedeschi erano riusciti a, praticamente, a trattare questo nastro con del ferro, con del materiale ferroso, per renderlo altamente fedele nella registrazione. Ed era così fedele che lo utilizzavano per trasmettere audio alle truppe come se fossero in tempo reale. In realtà erano tutte registrazioni. Quando questi due americani arrivano, questo William Parker, poi che arriva e prende su questi registratori, perché prende un po' su tutto, prende questi due a e ghe, insieme a queste 50 pizze di nastro, e le porta in America. che incomincia a indagarle, cioè che scopre che questa è una grande rivoluzione, cioè che quel nastro magnetico, in realtà, ha una fedeltà di gran lunga superiore rispetto ai sistemi di registrazione che avevano negli Stati Uniti. Da qui nasce, peraltro, tutto un percorso di primazia tecnologica degli Stati Uniti rispetto all'Inghilterra, per esempio, che poi, quando arriveremo finalmente a parlare degli Abbey Road Studio, in qualche modo si riparifica, nella cosa. Però, questa cosa del registratore è molto interessante, importante, perché quando portano questi registratori c'è questo grande artista che è Bing Crosby, negli anni 50, questo è quello che ci raccontano le storie, che è un grande personaggio dell'epoca, e ha queste trasmissioni radiofoniche molto seguite, è proprio una star a proposito di radio, e quando scopre che c'è questo registratore dice, ma io voglio registrare tutta la mia stagione del 47-48 con questi registratori, e quindi dà un assegno di 500, 50 mila dollari che sono i 500 mila dollari di adesso, eccetera, alla Ampex per mettere a posto in ordine questi registratori e costruirne degli altri, e la 3M costruisce dei nastri simili a quelli ferosi per innestare la produzione dei primi registratori a nastro con i nastri, perché lui diventa l'artista mecenate. Sì, perché lui capisce che può diventare uno strumento importante, perché fino a quel momento lì la sua trasmissione andava sempre in diretta, e capisce in realtà che con l'uso di questi registratori lui può montare le trasmissioni molto prima, e intanto che va in onda la trasmissione lui potrebbe essere altrove, lui cita questa cosa qua, cioè di sentirsi svincolato dalla diretta e soprattutto poter tagliare gli errori, aggiustare, montare lo spettacolo in modo tale che non rispetti... Bonta il pubblico, gli applausi, Sì, è tutto finto, non è finto, è vero, però è rimontato con un uso più specifico rispetto alle aspettative che lui poteva avere. Entriamo nell'era moderna, senza saperlo, lui già parlava di produzione musicale, così anche se non era la musica l'argomento principale ma era la radio, insomma. E nasce l'editing su nastro e non a caso la terminologia del nastro in qualche modo continua poi nel... Beh, rimane, diciamo che è una grandissima rivoluzione che poi tra l'altro riverbera in molti ambiti, in ambito appunto diciamo pop radiofonico per questa incredibile innovazione di appunto poter in qualche modo ridefinire tempi quasi come un montaggio cinematografico diciamo di più da un certo punto di vista e poi per esempio i nastri finiscono proprio dritti in tutti i studi di ricerca della radio nazionale degli anni 50 per cui tutto quello che è la zona della musica concreta la musica elettronica appunto dei centri di ricerca di Colonia e di Parigi e del stesso studi di fonologia a Milano e poi in qualche modo apre a un'idea completamente nuova di poter ritagliare e cambiare l'ordine degli avvenimenti degli elementi cambiando il risultato diciamo chiarissimo questo era Bing Crosby con il suo bell'ampex diciamo questo è il modello un po' più avanzato perché all'inizio era più grande di così poi vengono e gli hanno iniziato a produrre quelli modelli un po' più portatili e la cosa interessante che accade poi e anche allora abbiamo saltato un po' questo era il microfono elettrico insomma un po' di foto che avevamo preparato ma non importa e poi c'è questa cosa qui interessante curiosa Les Paul chitarrista famoso inventore della Gibson Les Paul regular Ampex tape machine and we play the first part on the guitar this is the rhythm part now you you put your earphones on and you play another part to it is that right? that's right ok I get the idea now the background that's the background qui nasce la sovraincisione cioè qui nasce grazie all'invenzione cioè Les Paul che era un grande tecnico perché ha invitato anche il primo effetto di lei no? effetto di di lei a nastro peraltro giusto era una nastro riesce a modificare i registratori dell'Ampex per fare in modo di registrare più parti di chitarra sullo stesso nastro ovviamente e qui nasce nel questo il 1954 sembrerebbe che sembrerebbe che in quell'era di quell'anno ci sono diverse testimonianze rispetto alla ricerca esatto però è bello pensare che sia stato lui però qui lui dimostra la radio come fa a sovrapporre diciamo le diverse chitarre e per fare questo brano e per fare questo brano è vero o si fa separatamente well Mary will hear the part that's already made and then she sings onto it I see first I'll make the first part first ok all set Mary give me a G chord insieme a Mary Ford che canta e sta sentendo la registrazione fatta precedentemente e ci sta cantando nella cuffia sì now I'll add a tuner part to that alright wait a minute you're on ok somewhere there's music how faint the tune somewhere there's heaven how high the moon what's the most track you've ever made well the most that we've put out on the market is 12 guitars and 12 of Mary singing does that mean ora cioè questa cantante è la prima volta che sente la sua voce registrata e ci registra la sua voce sopra sì che perché Big Crosby aveva finanziato questo progetto ma i registratori che hanno realizzato i registratori che non davano la possibilità di sovraincidere vari strumenti uno sopra l'altro questa è la grossa differenza adesso noi abbiamo per scontato delle cose ma magari ci sono degli aspetti tecnici che non sono così chiari però questa cosa che è l'esperienza di andare in uno studio di registrazione per chi non c'è mai stato di avere per esempio il primo approccio col microfono cioè questa esperienza della avere un primo approccio con un elemento tecnico tecnologico di qualcosa che non si è mai provato prima ora noi diamo per scontato tutta una serie di cose anche nella nostra vita nell'ascolto attraverso i sistemi di riproduzione ma anche nella vita quotidiana questa è una cosa che mi faceva riflettere mio figlio questo aveva ventenni guarda papà noi veramente diamo un sacco di cose per scontato la gente incomincia a perdere il senso del funzionamento delle cose me lo dice un ragazzo di vent'anni è una roba straordinaria perché qui questi sono tutti ventenni cioè questa è tutta gente che prova per la prima volta l'emozione di una cosa che non ha mai provato prima e non la dà per scontata perché in qualche modo nella storia dell'evoluzione tecnologica questa è una riflessione che mi permetto di fare ora nella storia dell'evoluzione tecnologica c'è questa emozione data anche dall'ingenuità di chi approccia per la prima volta a qualcosa che non riesce a capire come Fumelier come Fumelier che pare che si sia persa in qualche modo cioè che oggi quando c'è qualcosa di veramente innovativo che ci sia poi perché bisogna capire quanto abbiamo perso quella ingenuità quella capacità di sorprenderci delle cose e io invece mi immagino questa cosa che noi diamo giustamente per scontata cosa devono aver provato appunto la stessa Mary Ford quando la prima volta ha sentito la sua voce registrata nella cuffia e ci ha cantato sopra una roba che per l'epoca doveva essere una roba assurda da provare e quindi arriviamo qui siamo negli anni 50 ormai fine anni 50 tra l'altro appunto ormai negli anni 60 succede di tutto perché intanto gli Abbey Road erano nati nel 31 quindi era nato molto prima i Beatlesiani dovrebbero già sapere erano nati molto prima però ovviamente noi perché li conosciamo li conosciamo per l'esperienza che ci viene raccontata dal mito cioè quindi dal mito dei Beatles e dal mito di tutto quello che accadde poi negli anni 60 diciamo del 63 64 in poi per pochissimi anni tra l'altro i Beatles hanno fatto di tutto in pochissimi anni della loro vita hanno smesso giovanissimi è un'altra di quelle riflessioni che dovremmo fare cioè questi hanno incominciato nel giro dei 20 ai 27 anni hanno smesso tutti e hanno fatto una roba pazzesca e quella roba pazzesca ovviamente con il loro produttore George Martin con gli studi con tutta la gente a lavorare negli studi perché noi ci immaginiamo vabbè intanto Stefano queste sono le foto degli Ebirot a me fa sempre impressione scusate questa la vediamo dopo a me fa sempre un po' impressione un po' questa parlando di dunque 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 sì sì sto prendendo questa che è quella che era anche i medici eh sì cioè questa cosa questa è la sala di ripresa degli Ebirot negli anni 60 tra i 65 e i 68 dove i tecnici sono delle figure che non esistono più soprattutto in questa forma no direi proprio di no proprio di no eh eh dottori diciamo esatto del suono a me piace quell'altra immagine ah Stefano piace questa perché è molto significativa cioè qui siamo ancora nell'epoca in cui la regia che sta in cima alla scala qui ok pilota e registra quello che i musicisti fanno giù allora cosa significa questo questo è un modo di vedere lo studio di registrazione che ha più a che fare con la prima metà del novecento che non con la seconda cioè eh i musicisti suonano e il regia si registra cosa succede quando arrivano i Beatles ma in realtà noi diciamo i Beatles ma non è solo così cioè poi scopriamo che anche Frank Zappa faccia cose analoghe è solo che la narrativa e l'immaginario noi lo chiamiamo sempre i Beatles i Beach Boys forse anche di più i Beach Boys cosa succede un giorno i musicisti dicono ma cos'è che c'è là sopra cosa succede in quella stanza là che in realtà è una piccola stanza no e scoprono che quello che succede là può diventare un momento creativo per la musica e lì nasce da quel punto lì da quel momento lì nasce tutto quello che poi conosciamo benissimo che è la produzione musicale sugli album cioè molliamo per strada la registrazione documentaristica che abbiamo visto fino adesso e lo studio di registrazione diventa un momento creativo diventa un oggetto che serve per fare musica continua pure a parlare per cui diventa per cui ci ritroviamo i Beatles che stanno in studio sei mesi per fare un disco ma ripeto noi nella nostra narrativa nel nostro immaginario pensiamo sempre ai Beatles ma era un periodo molto florido in quel momento lì io ad esempio ho presente John Wood che era il fonico un fonico famoso che tra gli altri ha prodotto e registrato Nick Drake per dire lui aveva per dire uno studio molto grande come si vede lì per Abbey Road aveva una regia si vede dalle foto piccolissime perché in regia non accadeva nulla allora c'era solo un tecnico che registrava quello che veniva riprodotto rifatto nell'altra parte e lui a un certo punto comincia a capire che queste cose stanno cambiando che la musica comincia a cambiare il rapporto tra gli strumenti che vengono utilizzati e da quel momento lì in poi cominciamo a vedere studi di registrazione che hanno delle regie grandissime perché i musicisti lavorano sì in sala di ripresa ma soprattutto anche in sala di regia ma infatti la presenza di George Martin qui modifica un po' dello studio la regia diciamo perché con l'editing di Nastro con le sperimentazioni che ovviamente già accadevano come diceva Paine in ambito della ricerca diciamo degli studi di funologia comunque della ricerca della musica contemporanea però lui incomincia a utilizzare lo studio per fare creazione e la regia scusate la regia per fare creazione quindi incominciano i Beatles poi andare lì no? come tu dicevi incominciano a visitare a ascoltare a stupirsi a capire che si può fare qualcosa peraltro quando loro incominciano a registrare registrano su un nastro su solo due tracce stereo poi arriva la registrazione a quattro tracce Ampex ma prima è arrivata negli Stati Uniti perché abbiamo visto ricordiamoci che è lì che si sviluppa prima la tecnologia diciamo multitraccia e lì già alla fine degli anni 60-70 c'è Frenzappa il 69 già Frenzappa registrava un registratore a 16 tracce un po' di personaggi che forse qui in Europa non c'erano ancora esatto quindi poi loro incominciano a registrare il mitico Sgt Pepper sincronizzando due registratori a quattro tracce a nastro due Studer questi qua questo qua questo qui è il registratore utilizzato per Sgt Pepper dei Beatles e queste sono le macchine comunque quando gli Ampex incominciano a diventare multitraccia la registrazione multitraccia signor studio di registrazione Stefano Castagna apre un universo che è tuttora quello che conosciamo e che poi è stato anche trasportato in ambito digitale anche perché il modello digitale che usiamo adesso su computer ripropone un modello lo stesso modello del mondo analogico un mixer un registratore le tracce separate effetti che entrano sul computer e che una volta invece erano esterni o una volta anche nel mio studio io li ho ancora insomma però la cosa più rilevante della registrazione multitraccia è che il musicista si trova di fronte il musicista il produttore si trova di fronte alla possibilità di creare musica in un modo che non è più quello dei quattro ragazzi che suonano e di quattro microfoni che catturano a quel suono lì ma è di poter intervenire in maniera creativa come si posso dire funzionale a un determinato obiettivo utilizzando anche altri apparecchi e non ultimo sovraincidendo cose cioè un gruppo di quattro elementi poteva tranquillamente riempire 24 tracce di un registratore e realizzare un master in cui per essere riprodotto hanno bisogno di dieci musicisti voi vedete il mio cursore lì ok quando si entrava in studio di registrazione si guardava questo il nastro lo spessore del nastro sul registratore e questi diciamo questi moduli che erano qui c'era un view meter cioè un segnalatore di livello e quando tu contavi questi capivi su quante tracce lavoravano questo è un otto tracce uno due tre quattro cinque sei sette questo è uno studio su otto tracce a nastro e via via diventavano sedici trentadue eccetera quando eravamo nello studio dei Beatles c'erano quattro quattro view meter quindi c'erano quattro tracce anzi c'erano due inizialmente poi quattro quattro insomma all'inizio era quello il modo per visualizzare le capacità tecnologiche degli studi di registrazione fino agli anni ottanta sì sto pensando quando registravano su due tracce era perché la scuola che stava dietro era la stessa scuola che registrava la musica classica cioè nella sala di ripresa arrivava la musica classica arrivava un'orchestra e veniva registrata su due tracce quando poi è subentrato il pop e la musica popolare insomma più in senso automaticamente tutto quello che veniva registrato era come fosse un'orchestra di classica quindi veniva registrato direttamente in diretta su due tracce chiaro prego no dipende dipende perché nel caso specifico di Abbey Road erano stati costruiti apposta dei mixer che poteva miscelare appunto diversi diversi microfoni sì 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 anche lì il mixer era una cosa che stava prendendo piede cioè allora c'era mixer ridotti perché non si pensava di usare 10, 12, 13 microfoni o nel momento in cui poi arrivarono 24 tracce a nastro di dover mixare quindi avevi bisogno di un mixer con 24 ingressi per poter lavorare quindi quello è stato un passo tecnologico che è stato obbligatorio ma è cresciuto di pari passo di pari passo con la crescita della tecnologia su nastro qui per esempio in questa foto vedete un registratore ha 4 tracce no 1, 2, 3, 4 siamo negli Olympic Studios Americanis no inglesi delle Swingers eh sì era le Swingers Sisters qui abbiamo i musicisti che registrano su più microfoni più di 4 perché mi sembra di capire che ci sono un po' di microfoni sparsi e questa è la sala di regia con i mixer che sono ben più di 4 tracce cioè si vede che sono più di 4 canali non 4 tracce 4 canali ecco qui andiamo avanti scusami un dettaglio un dettaglio però mi viene in mente su questa domanda ho avuto il piacere di conoscere adesso mi sfugge il cognome un fonico ormai novantenne Federico se tu te lo ricordi prego no Foffo Bianchi no no che ha registrato parecchie musiche legate ai film mi collego a internet ma no lascia perdere Fonico Federico e viene subito questo è utilissimo e lui mi raccontava che registrava queste orchestre però lui ha fatto musica ha registrato musica per film di Visconti di Bertolucci gente insomma registri importanti italiani e mi diceva che quando registrava le orchestre e registrava direttamente sul master come in questo caso in cui stiamo parlando lui aveva di fronte la partitura si faceva spiegare dal direttore d'orchestra che effetto voleva e se in un certo punto c'era non so un crescendo di archi lui pilotava a mano la variazione di volume degli archi per poter dare questa dinamica quindi correva e mi ha fatto vedere che siccome allora non c'erano i faders come ci sono adesso i cursori verticali ma c'erano dei cursori rotondi c'erano dei come si chiamano potenziometri dei potenziometri rotondi che venivano girati lui mi ha fatto vedere che aveva a causa di questo di questo lavoro il pollice veramente deformato indietro lui mi ha detto mi faccia vedere il suo pollice lo faccio vedere dice no lei non ha mai fatto il lavoro che faccio io malattie professionali il fader diciamo che ha risolto un po' di problemi sicuramente sicuramente allora come spesso accade le tecnologie non pum finisce una e parte l'altra quando siamo ancora in piena era registrazione multitraccia a nastro incominciano i primi esperimenti i primi apparecchi digitali ovviamente quindi diciamo che l'era digitale si fa partire intorno agli anni 80 però in realtà le cose iniziano un po' prima tra parentesi nel 63 la Philips lancia l'audio cassetta a nastro e nel 67 la Svizzera Studer lancia il Revox A77 che era un mito un registratore a due tracce in cui si facevano tutti i master direi nei primi home recording perché come ci dice questa foto a parte i personaggi diciamo impegnati nella musica contemporanea come dicevo appunto Paine prima che utilizzavano questi registratori in studi di ricerca come questo o questa però qui c'era Brian Nino che negli anni 70 i famosi con Robert Fripp incominciava nel 74 a fare i suoi primi lavori di dischi da solo fuori da Roxy Music utilizzando registratori a nastro tra l'altro utilizzati per fare l'overdubbing cioè le sovraincisioni non aveva sempre adesso poi qui c'erano poi i quattro tracce non aveva i quattro tracce però usava due o tre registratori per fare i riversamenti e quindi nasce lì l'home recording stavi dicendo qualcosa Paine diciamo una cosa che me salta immediatamente all'orecchio verrebbe da dire è che comunque appunto da un lato si alza la prestazione la performance la grandezza dello studio il costo eccetera e parallelamente dal basso si rendono disponibili le tecnologie come appunto i registratori portatili una cosa che qua non c'è ma è successa molto importante è i registratori portati lì a valigetta nel senso fino a un certo punto chi voleva andare a fare una ripresa audio in giro aveva o come l'omax un furgoncino per trasportare l'apparecchiatura o comunque qualcosa di molto ingrombrante difficilissimo da trasportare adesso qua stanno registrando c'è lì una scatola che è grossa in realtà molto di più del necessario adesso l'ho lasciato basterebbe un telefono insomma qualcosa di molto piccolo e quindi queste apparecchiature che diventano magari il registratore di Breganino non era buon mercato adesso non so il modello però diciamo iniziano ad esserci a disposizione degli strumenti per fare sempre più agilmente delle cose nuove interessanti allora nel periodo nel fine anni 70 inizio fine anni 70 direi un Rayvox poteva costare come una bella chitarra elettrica cioè quindi quando il musicista decideva di comprarsi una telecaster e una stratocaster mi è successo personalmente ho venduto non vi dico quale delle due chitarre e mi sono comprato un registratore a bobina no per cui il costo era accessibile per un musicista che aveva intenzione di spendere soldi che aveva due chitarre no no esatto lavoravi e ti spendevi no studiavi lavoravi e con i soldi che guadagnavi lavorando ti compravi la tua chitarra elettrica il tuo registratore quello che era la tua passione non ti compravi l'iPhone 13 a 1200 euro cosa stiamo parlando cioè stiamo parlando delle cose delle passioni che tu hai e te le compri e quindi questa cosa qui era accessibile nella misura in cui riuscivi a come dire era accessibile non era così non era non era 1200 sarà stato 2-3 mila euro di oggi sempre nella gamma qualcosa un'ultima cosa su questo aspetto del nastro però è molto interessante che contemporaneamente appunto questi utilizzi molto creativi che diciamo magari più noti del mondo del pop poi si sviluppano negli anni 70 in parallelo tutta una serie di tecniche e stili derivati appunto dalla manipolazione della registrazione dall'auto multitraccia cioè Jamaica il dub cioè quindi per semplificare veniva presa una registrazione multitraccia di un gruppo quindi tutti gli strumenti e se ne toglievano degli elementi e se ne effettavano degli altri quindi tutta la musica poi diciamo derivata dal dal reggae quindi il dub e tutte queste cose viene da lì e viene da la possibilità di avere tutta diciamo il gruppo diviso e poi ripresentarlo riproporlo in una modalità diversa questa cosa tuttora poi influenzata da qualunque cosa ascoltiamo con un po' di effetti e dall'altro insomma provo ad essere breve invece nella estensione di alcune porzioni particolarmente ritmiche e selvagge di brani quindi ripetute ritagliate lì direttamente dal master in quello che poi erano inizialmente gli extended mix della disco diciamo quindi parliamo sempre degli anni 70 siamo più in zona Stati Uniti quindi la possibilità di dire ok noi abbiamo un brano da tre minuti però ce ne piace una parte perché nella pista della discoteca funziona molto da un lato veniva duplicata dalle mani dei dj del Bronx facendo creando quello che poi è diventato appunto la musica break beat l'hip hop eccetera e dall'altro invece viene proprio manipolato con forbici nastro e quindi allungato per dar vita delle versioni nuove più lunghe cosa che diciamo non era concepibile prima qui ci sono c'è l'evoluzione dei multitraccia li chiamerei home perché qui però questa è un'evoluzione è una tra virgolette una involuzione cioè nel senso che noi siamo partiti dai quattro tracce che usavano i Beatles ma quella tipo di tecnologia lì si è poi evoluta si è trasformata in otto tracce si è trasformata in sedici e poi si è trasformata in maniera definitiva e conclusiva in ventiquattro tracce John Wood dice che anzi Joe Boyd che è il produttore sempre di Neil Drake dicevo prima racconta che la qualità della musica secondo lui è cambiata da quando quello che lui chiamava un genio ha deciso di far stare ventiquattro tracce sullo stesso nastro in cui ne stavano sedici quindi vedi che i momenti e i concetti di qualità variano comunque sta di fatto che i registratori si espandono fino a diventare ventiquattro tracce ed erano comunque sempre tuttora sono macchine grosse ingombranti costosissime che costavano anche le ultime prodotte costavano svariate decine di migliaia di euro le attuali decine di migliaia di euro però poi il mercato capisce che c'è una possibilità di portare gli studi di registrazione a casa o meglio capisce che non per forza gli studi devono essere strutture come Abbey Road oppure come gli Olympic Studio oppure come tutti gli studi che ci sono al mondo in quel momento lì che sono di solito studi gestiti o da società che comunque avevano bisogno di fare investimenti importanti anche perché non ricordiamocelo non dimentichiamocelo adesso la musica soffre un cambiamento di carattere economico ma allora la musica rendeva un sacco di soldi cioè dietro la musica dietro questa tecnologia c'erano i soldi per cui anche la ricerca aveva interesse ad andare avanti e penso che il culmine l'abbiamo avuto verso la metà degli anni 90 primi anni 90 forse in questo senso sta di fatto che però ancora negli anni 70 cominciano a nascere degli studi più piccoli che non hanno la pretesa di competere con questi grossi studi cioè questi studi sanno che sono studi di serie B o forse anche di serie C però cercano comunque di trovare attraverso le apparecchiature disponibili la possibilità di avere dei percorsi artistici perché spesso erano studi legati più alla musica della produzione artistica che non al concetto di fare dei dischi di successo e il mercato capisce questo e comincia a produrre quei registratori che prima avevi aperto di cui avevi aperto le foto prima che sono i 4 tracce e gli 8 tracce che comunque costavano non questi perché questo è il secondo momento dopo ecco che comunque io ricordo perché io c'ero una macchina così costava dire cioè insomma aveva veramente un costo altissimo soprattutto perché da sola non funzionava avevi bisogno di un mixer e a quel punto lì avevi bisogno di un posto in cui metto 3-4 milioni di lire sì appunto erano tanti e poi avevi bisogno di collegarlo un mixer e se avevi una cosa del genere avevi bisogno dei microfoni avevi bisogno di quello che le grosse strutture avevano e però tu te lo potevi permettere se avevi un po' di investimento ma comunque un certo investimento c'era bisogno di farlo tutto cambia e secondo me parlando anche con i miei compagni di viaggio è stata fuori questa cosa secondo me il cambiamento radicale in questo senso non è stato il passaggio al digitale per me è stato il passaggio questa macchina qua questa come tante altre che sono simili che erano registratori quattro piste a cassette che costavano veramente pochissimo e quattro piste a cassette cosa andano a posizione? Dà la possibilità di avere uno studio completo completo nel senso di tutte le sue funzioni non parlo di qualità in mano ma veramente in mano perché erano piccolissimi non hanno bisogno questi diventano dei laboratori di musica potenziale di tantissimi musicisti io ho cominciato così e devo dire che mi ha dato la possibilità di avvicinarmi a questo mondo in un modo accessibile per me è stato un cambiamento veramente radicale cioè avere la possibilità di chi aveva come nel mio caso la passione per la registrazione di poter fare cose che prima ti potevi permettere solo se avevi o un certo tipo di investimento o dei soldi o spesso anche delle idee su cui investire mentre con questo tu potevi improvvisare potevi giocare diventa una cosa più ludica e meno anche meno seriosa per dire e qui siamo 80 inizio degli anni 80 mentre fine anni 70 i registratori multitraccia bobine e invece qui stiamo parlando del portastudio cosiddetto Tascam lo chiamo così Tascam è riconosciuto Teac e Tascam giapponesi sono riconosciuti come gli inventori dell'home recording diciamo su cassette multitraccia cassette questo per fare una nota microtecnica io ho avuto come in molti casi accesso ritardato alle tecnologie di qualche anno prima a un certo punto nei primissimi anni 90 quando sperimentavo 15 16 anni le cose mi prestarono una batteria elettronica uno di questi a Gigi aveva una tasterina e diciamo questi registratori sono interessanti perché sostanzialmente come un po' l'innovazione del multitraccio degli anni 60 ti ha la possibilità di essere più volte te stesso cioè una volta suono una cosa poi un'altra volta suono un ritmo poi mi stanno finendo le tracce quindi queste due le rovescio in un'altra traccia dopo di che chiamo il mio amico che suona la chitarra ci fa una parte sopra quindi di nuovo una macchina dei giochi appunto per sperimentare molto interessante per esempio ecco questa cosa del riversamento tu registri una traccia poi ne registri un'altra e quelle due le devi mixare mescolare insieme su una terza traccia senza sapere cosa verrà dopo quindi tu deciderai il rapporto tra la prima e la seconda traccia creandone una terza immodificabile perché stai liberando le altre due tracce quando fai riversamento quelle due batteria e basso non saranno più rimixabili quindi quando tu aggiungerai le altre cose questa è l'esperienza che si fa lavorando Stefano tu cominci a aggiungerai la voce poi la tastiera poi scopri che il basso e la batteria non vanno bene così mixate non puoi tornare indietro non puoi tornare indietro questa è non puoi tornare indietro ovvero di necessità virtù i limiti a furia di alla possibilità di fare di sbagliare qui puoi cancellare di fare le cassette costavano mediamente poco sceglievamo sempre le più buone però poi alla fine in qualche modo più di così più di tanto però questa cosa del provare riprovare sbagliare alla fine si imparava a mixare le cose si incominciava studiando a sapere perché alcune cose mixate insieme poi non andavano era un modo quello che prima era di dominio di quei signori col camice bianco comincia a diventare anche in piccola parte era una fase di apprendimento però una cosa importante è che noi allora quando usavamo macchine così sapevamo che non stavamo facendo concorrenza agli studi veri no infatti si usavano spesso anche solo per fare dei provini poi si andava in studio poi succedeva che andava in studio se lo studio non era uno studio di serie A e quando andavi a registrare il tuo pezzo registrato qua veniva peggio sì perché qui torniamo al discorso precedente cioè che non sempre l'apparente qualità tecnologica poi corrisponde con quello che è il feeling con le apparecchiature al momento della creazione artistica perché quando sei su quel registratore a casa tua che stai registrando le tue cose con l'intenzione del riff che stai facendo quando vai in studio dopo che hai lavorato a casa così quindi senza esperienza quando andavi in studio con la tua band o da solo a registrare il pezzo nello studio di qualità non avevi quella roba lì e tu registravi pulito ma la musica non usciva cioè era morta praticamente l'esempio è l'album Nebraska mi sembra che sia di Bruce Springsteen Bruce Springsteen che lui registrò come provini su quattro tracce e che poi come preparativo per poi andare in studio a registrare che poi in studio non riusciva a tirar fuori quelle cose che aveva realizzato e quello che ci ha pubblicato è stato ricavato da su quattro tracce e attendo la registrazione casa esatto comunque ci sono altri casi storici di home recording di qualità decisamente più elevata del quattro tracce il primo tra tutti è quello dei Beach Boys che siccome Wilson non andava mai d'accordo con i fonici e i soldi li aveva si era nella sua villa si era praticamente fatto uno studio di registrazione tempi più recenti gli Eurythmics i dischi famosi degli Eurythmics sono quasi tutti registrati in casa infatti eccolo lì ecco lì lo studio ecco qui c'è un otto tracce presumibilmente dietro qui c'è il Revox B77 credo quello successivo il sequencer c'è il mixer arriva il computer e arriva il computer allora questo è del 1983 allora è qui l'era digitale è già allora per la cronaca perché andiamo poi a bomba su tutto il resto sembra che Denon sia stato il primo a costruire il prima la prima macchina di registrazione digitale su cd non portatile non portatile questa è enorme PCM Recording Pulse Code Modulation è un formato diciamo teoricamente inventato dalla Sony quindi io non so che tipo di relazioni non so neanche se credere a questa notizia perché Denon dichiara proprio nel 1970 loro hanno costruito il primo registratore questo è il primo riverbero digitale questo non è il primo in realtà è un modello successivo però anche lui un cardensone siamo però alla fine degli anni 70 siamo ancora alla fine degli anni 70 e vabbè il compact disc nasce nell'82 in realtà viene progettato un po' prima però nasce il compact disc perché la registrazione digitale nel formato lineare a 44 kHz 16 bit è la codifica che si dà alla registrazione diciamo della neonata tecnologia che ci permetterà di rivitalizzare tutti i cataloghi su vinile tutti i cataloghi su vinile nel formato digitale e lì c'è il picco dei mercati c'è una cosa da dire però forse un attimo prima del cd nel senso che il cd è già un formato che sfrutta il codice digitale ma il digitale per come lo conosciamo non è nato inizialmente legato sicuramente non ai computer e tanto meno ai registratori digitali ma prima di arrivare a questo è stata una grande produzione di macchine digitali che processavano il suono quindi i riverberi i delay altre cose ancora più complicate la lexicon era del 78 si la lexicon che faceva apparecchi medicali inizialmente ha scoperto il potenziale che poteva esserci nell'ambito digitale e ha cominciato a realizzare delle macchine quindi stiamo parlando già di digitale ma non è il digitale non è la registrazione digitale che arriverà ben dopo insomma no è il formato digitale a livello consumer cioè è quello che permette alla massa di comprendere che si è passati all'era digitale come sempre c'è una zona di fantascienza immaginativa per cui benvenuti nel digitale cioè questa nuovissima è la nuova la musica come non l'avete mai ascoltata eccetera ma ovviamente il tempo d'ingresso è graduale soprattutto appunto passa attraverso a tante a tanti scalini gradini perché di fatto poi ora che si arriva a un sistema diciamo completamente gemello del vecchio sud di registrazione livello digital ci vuole un po' perché appunto ricordiamo che i computer diciamo dei primissimi anni a tante per esempio avevano della memoria che era minuscola in effetti il problema era l'archiviazione di tutti i dati digitali che allora non esistevano ricordiamo che sulla luna ci erano dati con un computer da 4 mega insomma quindi non avevamo proprio però cosa succede che i registratori che fino a poco prima registravano dei dati magnetici vengono utilizzati per registrare dei dati digitali si parla del sony si parla del mitsubishi sono registratori che arrivavano ad avere 32 tracce questo è il dato no no scusate che avevano un nastro da vedere molto molto simile a parte la signorina in primo piano King Wild con il suo mitsubishi multitraccia però vediamo che c'è ancora il nastro però sul nastro non vengono più registrati dati magnetici ma dati digitali perché i dati sono masse di dati molto ingombranti ed era impossibile farli stare in un computer in un hard disk che allora non esisteva neppure insomma per cui c'è stato un periodo abbastanza lungo perché neanche sento tanto corto in cui gli studi più rinomati aveva registratori tipo quello che stiamo vedendo la registrazione veniva fatta in digitale qual è il vantaggio principale il vantaggio principale possiamo dire che è una maggior precisione non so non c'era più il problema del soffio del nastro cioè tutte le cose che avevano a che fare con l'elettricità qui spariscono allora c'è questo da dire che fino a che non è arrivato il computer cioè la capacità di memorizzare un certo numero di dati in un formato solido il problema della registrazione sul nastro è stato grosso perché mentre sul nastro analogico sai quando la cassetta il nastro si inceppa poi quando la riproduci va però continua a sentirsi sul nastro digitale se c'è un nastro digitale rovinato tu hai perso la componente sonora perché non è il sistema non è in grado cioè non è non è continuo l'informazione è continua non è in grado di ricostruire quello che è il danno meccanico del nastro mi verrebbe da dire no? quindi vero che non c'è il problema del wall flutter cioè quella cosa del nastro c'è del fatto che ci siano dei rumori di fondo quindi il rapporto segnale rumore che ci siano questi sbarellamenti sui due canali eccetera ma è vero anche che registrare il digitale sugli stessi supporti su cui si registrava la registrazione si faceva la registrazione analogica non era esattamente la cosa migliore e infatti tanti studi di registrazione che utilizzavano sistemi di registrazione digitale su nastro tipo l'ADAT della LESIS che vediamo che vediamo qui per esempio scusate quando arrivava il nastro prendeva umidità avevano perso il master infatti facevano più copie di nastro non ti ricordi cosa che non era che non si faceva insomma su negli studi normali insomma a parte che c'erano anche lì dei problemi di duplicazione da fare per cui e anche dal punto di vista audio qualitativo la il formato cd senza entrare nelle cose tecniche però la quantizzazione digitale del programma musicale veniva fatta proprio per risparmiare dati e per la tecnologia a disposizione a un livello di definizione molto bassa ancora che non permetteva di dare quella risposta musicale che invece ora i sistemi digitali ad alta risoluzione riescono a dare e che sono più vicini a quello che noi ascoltavamo con i sistemi analogici di altissimo livello ben settati con le testine dei registratori ben pulite allineate eccetera quindi ora si può parlare quando si è parlato per anni meglio digitale o analogico allora io lo capivo quando si parlava del cd che il digitale ancora non fosse il massimo che non era abbastanza caldo non aveva quella risoluzione che permetteva di raggiungere l'estensione in frequenza e dinamica che è quella che noi anche psicoacusticamente percepiamo quindi sono degli elementi oggettivi Stefano quindi oggi il digitale ha raggiunto effettivamente dei livelli ma allora quando dicevano il digitale e la musica come l'avete mai ascoltata oggettivamente era consumer e si raffrontava con robe di questo genere cioè con con questa roba qui col Walkman no? si raffrontavano col Walkman e dicevano però se vai con un cd portatile cacchio senti molto meglio del Walkman quindi era consumer e preparavano preparavano e qui il rapporto con il mercato della musica con gli ascoltatori preparavano una massa di gente pronta per accogliere il suono digitale ma negli studi di registrazione quella separazione quella forbice cioè nello studio di registrazione la musica veniva registrata su registratori a nastro ad altissima qualità poi andava ascoltata nei giradischi casalinghi o nei riproduttori a cassetta a bassissima qualità il cd ha un po' riallineato quella cosa ha avvicinato la qualità dell'ascolto della massa alla produzione ma ancora la forbice è stata per anni molto distanziata in studio si registrava a livelli di qualità molto elevati e il cd comunque non era ancora quella se ci spingiamo oltre io mi spingo mi permetto di dirlo adesso oggi questa forbice da un certo punto di vista ha lo stesso problema cioè il digitale arriva a una risoluzione elevatissima di altissimo livello quindi il digitale ad alta risoluzione e l'ascolto degli mp3 spesso invece della musica compressa in formato mp3 spesso è di livello molto più basso ma comunque di livello superiore a quello che ci permettevano gli walkman e i riproduttori di cd mobile perché spesso quelli saltavano pure quindi diciamo qui il rapporto tra mondo della creazione della registrazione e il mondo degli ascoltatori va sempre visto con un approccio diverso si c'è un po' sempre un avanti indietro nel senso che appunto la tecnica di produzione sale tantissimo poi si diffonde una tecnologia di frizione o migliore o più comoda infatti tutta l'epopea degli mp3 ci racconta questo tantissima musica per tutti ma pessima l'accessibilità prima della qualità prima l'accessibilità e poi adesso siamo un po' a metà volendo si può però poi pesano troppo io ho provato avere il servizio di streaming ad alta qualità però per l'ascolto mobile data la tecnologia di rete che abbiamo e la grandezza dei nostri device tuttora se io dovessi mettere la discografia che ho io in tasca cascherei sotto terra esatto esatto dunque così cioè questo era un sistema che ci permetteva di far suonare contemporaneamente più strumenti nel formato MIDI non entriamo nella descrizione ma è un protocollo di comunicazione su strumenti digitali che permetteva attraverso un unico un'unica tastiera chiamiamola per adesso di far suonare diversi strumenti funziona ancora adesso se lo attacchi a cavo MIDI sono le famose foto dei grandi tastieristi anni 80 che hanno tante tastiere e suonano tutte pilotate da un solo input però questo l'abbiamo messo all'interno della registrazione perché oggettivamente nella registrazione digitale l'orchestra cosiddetta orchestra MIDI ha rappresentato per molto tempo una soluzione alternativa alla registrazione multitraccia ma anche che si integrava nel senso che quando si utilizzava il registratore a nastro guarda cos'hai il registratore a nastro no questo qui è stender si si la prima versione del 1989 quando si usava il 24 tracce a nastro spesso capitava per produzioni grosse di musica pop che le tracce non fossero sufficienti allora si era si era mutuato un codice che si chiamava smpte che era stato mutuato dal cinema che dava la possibilità è un codice temporale scritto su una traccia di sincronizzare che sincronizzava attraverso una macchina apposta un computer o un sequencer alle tastiere per cui adesso è un po' difficile da spiegare in due parole però diciamo che uno aveva la possibilità di avere oltre le 24 tracce del registratore a nastro anche tutta una serie di tastiere esterne che non veniva registrate sul nastro che gli aprivano tutta una serie di possibilità timbriche anche di arrangiamento quindi quando il computer si afferma per la registrazione digitale siccome non ha abbastanza memoria per registrare i dati audio fisici cioè registrami la chitarra che suona registrami la batteria che suona utilizzava il protocollo MIDI per registrare i dati che prendevano meno spazio nella registrazione su nella memorizzazione su computer perché poi pilotava gli strumenti esternamente al computer però è con questi strumenti con questi software MIDI che nasce il ruolo del computer come centro di controllo della produzione musicale digitale attraverso il MIDI perché poi questo stesso Cubase con tutte queste tracce che sono in realtà virtuali cioè comandano tastiere esterne incomincia versione dopo versione crescita della tecnologia degli spazi di memorizzazione dello spazio di memorizzazione sugli hard disk eccetera incominciano ad esserci possibilità di registrare due tracce audio quattro tracce audio e oggi siamo arrivati alla registrazione di mille tracce audio con tutti gli effetti i riverberi che prendono tantissimo lavoro della CPU del computer eccetera insomma però questo è il punto di partenza del computer come centro di controllo nella produzione musicale attraverso il MIDI quella tra l'altro è la schermata di un Atari sì perché è di un Atari Pro Tools DigiDesign Reinvest Studio cioè praticamente Pro Tools che è il sistema di produzione professionale negli studi adottato negli studi dal 1990 91 in poi crescendo è tuttora è uno standard di registrazione negli studi di registrazione professionali della musica pop direi e qui nasce nel 91 dicendo proprio proprio questo cioè che il computer diventa il centro di produzione musicale degli studi di registrazione sì c'è da notare che c'è adesso voglio non so che ore suono tra l'altro come un'ora e un quarto il timing è abbastanza giusto giusto per fare un'introduzione generale una nota un po' tecnica ma è importante cioè la questione è avevamo questi studi di registrazione molto articolati con una serie di macchinari molto costosi grandi ingombranti quando arriva al computer il computer si inserisce dentro non per sostituire ma in qualche modo per ampliare o semplificare alcuni processi ma la tecnologia per gestire queste cose come diceva prima Piero ci mette tantissimo ad essere sufficientemente capiente anche performante per fare le cose quindi io se dovevo registrare quattro elementi ha la stessa qualità del nastro sul computer ci sono voluti veramente parecchi anni quindi noi abbiamo questa innovazione appunto vediamo DigiDesign in parallelo per esempio per il montaggio video e Avid sono tecnologie che gestiscono con una certa facilità meglio di prima dei processi che però per esempio per funzionare hanno bisogno di schede hardware costosissime cioè Avid acceleratrici Avid era un sistema di montaggio parallelo del nostro premier che aveva però bisogno di una macchina che costava 150 milioni di lire cioè come qualcosa di molto ingombrante di forse prendersi una moviola e un'altra cosa quindi il passaggio che poi vediamo di fatto oggi che è una riproduzione uno a uno anche nelle parole nei codici nella forma proprio di come sono fatti questi software di gestione dell'audio che sono i gemelli digitali dello studio antico dello studio antico dello studio vero analogico in realtà per avere una resa più o meno da quelle parti ci ha messo tantissimo tempo solo negli ultimi anni possiamo parlare di una di una cosa paragonabile peraltro vedete questa terminologia è la stessa che si usava nei registratori a nastro qui non ci sono le paroline ma qui play rec stop fast forward stesso modello riportato stessa terminologia quindi il modello è il registratori a nastro cioè proprio quello io li scorro velocemente il mini ischia l'adat abbiamo visto il formato mp3 nasce nel 1987 1986 una cosa del genere questi il mitico ipod ma prima ne erano nati degli altri quindi nasce la musica liquida contestualmente all'internet allo sviluppo di internet e qui si apre un mondo completamente nuovo io avevo messo tra i registratori su computer anche queste nuove modalità più da dj in realtà io in painette avevo messo questa foto che secondo me è fondamentale questa è parlare tu dai diciamo che appunto diciamo che appunto la cosa di cui per noi stasera è talmente articolata che quindi insomma proviamo a sintetizzare c'è una zona in cui appunto la registrazione degli strumenti che succede reali e succede tutt'oggi con un sacco di gruppe band va avanti si rinnova e poi da un altro lato ci sono degli strumenti che attraverso diciamo la propria natura digitale con quello come questa HMPC 60 che diciamo è 1988 sì sì una diciamo un campionatore sequencer una batteria elettronica in realtà un production center infatti c'è non so se è di questo nel manuale c'è Roger Lean sì Roger Lean praticamente nella prima pagina del manuale ci sono delle parole bellissime in cui dice questo è come uno strumento per cui invito i musicisti a conoscerne ogni angolo eccetera sostanzialmente con questa scatola con una memoria molto limitata però si potevano riformulare tutta una serie di suoni registrati rubati e da qui usciva un master a tutti gli effetti cioè usciva la stereofonica è un multitraccia audio midi digitale senza computer ma auto stand alone si stand alone che poi sostanzialmente ha visto diverse evoluzioni e tuttora è uno come dicevamo prima il registratore multitrache è il template è la base per tutti i software e questa è la base per tutte le batterie elettroniche tutti i sequencer a 16 bottoni e da qui sono nati tutta una serie di genere musicale in cui una persona un interessato con la propria scatola nel proprio scantinato o attico a seconda della situazione poteva crearsi della musica e la musica è stata creata mobile in qualche modo sì diciamo sicuramente più mobile di avere un'astronave di studio qui si potrebbe andare nei particolari ma io direi di evitarli cosa ne dite andiamo inutile far vedere i vari programmi garage band eccetera qualche data Spotify è nato nel 2008 questa era la prima interfaccia MySpace 2003 questa era l'interfaccia del 2007 MySpace questa era la prima videocamera GoPro con cui i musicisti hanno incominciato ad approcciare la registrazione audio video per esempio questa è stata molto importante con la nascita di YouTube nel che anno era il 2000 eh 2004 mi pare nel 2005 va bene e e poi Soundtrap vabbè questo è un tuo sistema di registrazione un'altra riflessione che si può fare è tutti questi studi ecco come questo sì che fanno concorrenza a studi che hanno due cassa e un computer cos'è che vale di più cos'è che ha valore cos'è che non vale cos'è che è finto cos'è che è vero cioè è il rapporto con lo spazio acustico poi alla fine diciamo che secondo me l'impressione che ho io in questi ultimi anni è che la musica il produrre musica ha cambiato completamente il rapporto tra i musicisti produttori e il risultato finale cioè la qualità di piccoli studi che hanno veramente solo un computer e due casse è comunque molto può essere comunque molto molto alta il problema che vedo io da fuori insomma è che spesso pensiamo che la tecnologia sia quella che ci fa fare la buona musica o la cattiva musica ma in realtà uno studio ben più piccolo di quello che vediamo lì può produrre cose assolutamente strepidose cioè alla fine restano sempre le idee che riescono a a farsi strada piuttosto che i soldi spesi per un'attrezzatura io ho messo insieme sono andato a cercare gli studi più belli del mondo no perché c'è anche un aspetto estetico di vita dello studio che è interessante e poi andiamo a vedere gli studi invece quelli personali no perché effettivamente questa customizzazione personalizzazione non solo dello spazio del flow del percorso del lavoro del flusso di lavoro che ogni musicista compositore crea con i propri strumenti con le proprie modalità i propri tempi ma anche l'ambiente l'atmosfera in cui crea musica ha una sua importanza no per cui se tu hai uno studio di questo genere e dici che bello no qui io ci registro tutta la musica country del mondo io in una sala del genere mi sento proprio come se fossi in un'astronave e questa per esempio non abbiamo parlato questa è la questa è la mastering è la sala master solo del mix praticamente e questa invece vabbè questa è una roba della baita e vabbè comunque dico e questo è bellissimo questa sala è bellissima con la vista lì non so neanche se è vera vabbè comunque potrebbe essere artificiale questo e poi invece parliamo appunto della 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 comodità di lavorare dove e quando si vuole e nello specifico nella foto che c'è qui in apertura che è questa aspetta non è questa è l'altra anche smutandati cioè in senso come dire cos'era questa cioè questa è proprio l'immagine degli studi anni 90 quando proprio 2000 scusa quando i musicisti hanno incominciato a costruirsi il proprio ambiente di lavoro a casa con tutto quello che gli serviva per però ci sono beh diciamo che appunto anche secondo me la cosa centrale è il processo l'idea di cosa si vuol fare è vero che da un lato come Beatles negli anni 60 andavano dagli scienziati dai dottori eccetera giocavano con e cercavano delle cose che però di fatto c'è una zona in cui c'è bisogno di qualcuno di sapiente che cioè questo è un fatto cioè in molti processi nella musica una di questi non fa male se c'è qualcuno che sa cosa cioè che ognuno faccia una parte e poi c'è un'interazione che è quella che crea il risultato diciamo superiore in una linea anch'io se fossi qua da solo senza tutto questo sistema che va di là e l'impianto montato no non non suonerei diciamo dovrei agitare molto di più la mia onda sonora per arrivare là dall'altro lato è molto interessante si possono ottenere cose molto interessanti ce l'ha dimostrato Piero tutta la sera cioè se avessimo dovuto fare questa cosa qua prima del digitale avremmo dovuto fotografare delle diapositive con tutte le immagini girare con la pellicola trovare le immagini trovare le immagini chiaramente nella biblioteca del congresso eccetera viaggio in nave e zeppelin dopodiché quindi montare un proiettore un proiettore di diapositive quindi sicuramente sarebbe stato indimenticabile ma ci avremmo messo molto di più quindi allo stesso modo ma con una diversa ricerca quindi un esito secondo me diverso non qualitativamente ma proprio di intenzione è molto bello che uno può avere nello zainetto una potenziale astronave che poi ti fa decollare da una parte ci sono questi due aspetti c'era forse quell'immagine molto dibattuta dello studio di Fortet che è un produttore inglese di musica elettronica che a un certo punto ha pubblicato su twitter questa foto dicendo questo è tutto è tutto il gear l'equipaggiamento che ho utilizzato per fare il mio album che è tipo un sintetizzatore un computer due casse e un bosco infatti ha fatto risultare quello che si chiama la tempesta di cacca nel gergo dei social media perché tutti hanno iniziato a prenderlo in giro facendo delle foto parodia però è vero che se uno ha le idee chiare e vuole fare certe musiche fa quello poi lui contemporaneamente fa le cose con le orchestre con i musicisti cioè non è che una cosa vieti l'altra o una sia meglio o peggio dell'altra decisamente tornando a uno dei temi del nostro incontro la possibilità di creare una propria casa esattamente come il musicista da sempre ha fatto col suo piano verticale o a coda a seconda diciamo della grandezza della casa che ognuno o con la propria chitarra o la propria grande batteria o il forte piano o la viola da gamba può crearsi le sue cose con una macchina con la tecnologia moltissima della musica elettronica diciamo rivoluzionaria degli anni 90 e 2000 è stata fatta in delle situazioni inizialmente molto accessibili poi però sono andati a fare il mix e il mastering comunque dove c'è qualcuno che sa farlo quindi la portabilità non è necessariamente come dire una negazione della qualità è sicuramente un'opportunità però mi avviso sempre da bilanciare con un po' di consapevolezza di quello che stai facendo sì la consapevolezza è la parola proprio su cui spingo molto anch'io quando parlo con i ragazzi perché questo nell'atto creativo noi spesso siamo spinti a utilizzare quello che abbiamo a disposizione quello che ci fa sentire a casa nostra eccetera poi quando vogliamo per esempio qualificare un prodotto allora lì dobbiamo farci delle altre domande cioè dobbiamo chiedersi chiederci se quello che noi vogliamo dire in termini prettamente artistici poi invece deve utilizzare delle sovrastrutture per accedere al mercato tanto per semplificare e queste sovrastrutture per un musicista non sono più solo legate al prodotto musica ma sono legate alla distribuzione qui partirebbe un discorso su Spotify sui aggregatori canali digitali eccetera però la consapevolezza è proprio quello cioè farsi una domanda se quello che sto facendo è esattamente intanto cosa sto facendo se lo sto facendo perché ci credo se è un mio progetto o perché tutti fanno così che è la prima domanda e poi studiare indagare su quello che si sta facendo per capire se forse c'è un modo che sarebbe più affine a me più personale di fare quella cosa non solo dal punto di vista artistico proprio come approccio anche alla scelta delle macchine alla scelta della condivisione decidere se la mia musica potrebbe essere migliorata dalla registrazione in uno studio di registrazione con altri musicisti cioè ci sono tutta una serie di riflessioni che ci porterebbero da una situazione di questo genere a una situazione che lui stesso ha vissuto quando è andato poi a registrare negli studi quelli fighi io avevo questa foto di questo Madlib che tu mi hai mandato di questo disordine no? volevi questo sì per esempio Madlib è un produttore diciamo di hip hop che poi ha insomma ha fatto anni fa un album di remix per Blue Note cioè comunque però è un artista ha fatto vari dischi registrati solo su un asso in cui lui suonava tutti gli strumenti si è inventato tutta una serie di pseudonimi in cui cioè questo quintetto si si ha fatto prima un quintetto in cui lui era cinque musicisti diversi e dopo di che ha fatto tutti degli album solisti di tutti questi musicisti diversi la marihuana è un campionatore non generano solo problemi e questo è quello che avrebbe fatto un grande studio di registrazione rendendo marketing il discorso che cioè questo è uno studio di registrazione che ha messo tutti i suoi vinili all'interno di una grande sale per far vedere quanto figo è il suo posto quanti vinili ha no? quindi anche cioè è un po' critica la mia cosa diventa marketing il vinile che diventa marketing e non più oggetto di creazione di ricerca eccetera però appunto secondo me rimangono sempre queste due dimensioni che persistono cioè un fatto la cosa fantastica di poter per esempio fare delle registrazioni in movimento cioè registratori tascabili o avere un blocco degli appunti molto pratico in treno in viaggio in hotel in aereo e poi dall'altro lato invece comunque sostenere frequentare soprattutto sfruttare quello che è un'infrastruttura che appunto è uno studio fatto bene con una persona no da non dare scontato per scontato neanche una cosa non toglierà se io vado in studio da Stefano o vado in studio da un altro no? sì diciamo in questo caso mi viene da appunto ripetere la cosa che si diceva prima non è l'apparecchio l'apparecchiatura la tecnologia all'effetto il plug-in o no l'oggetto da collezione che fa il risultato ma è l'uso sapiente abbiamo terrorizzato le persone abbiamo terminato queste sono le immagini del mobile della produzione mobile ovviamente è un po' quello che ha colori bene cerchiamo dell'interazione che puoi trilogare come si chiama un monologo a tre spezziamolo avete qualche curiosità volevo fare una piccola riflessione sul fatto che qui abbiamo parlato ovviamente del discorso delle tecnologie però magari due parole anche sul forse riguarda un po' più la qualità del suono delle ricerche che erano state fatte prima che arrivassero tutti i vari reverberi di lei e così via mi vengono in mente alcune storie che ho letto sui vani scala della RCA piuttosto che la villa che avevano affittato un gruppo inglese sulla costa azzurra dove negli scantinati avevano poi i roll in stone anche i roll in stone mi sembra che anche loro avessero fatto questo tipo di esperimenti cosa che probabilmente col digitale invece non c'è più questa esigenza di andare a cercare questi luoghi per ottenere determinate qualità di suono questo volevo dire in quei casi se lo potevano permettere gruppi molto importanti perché spostare uno studio mobile non era la cosa più semplice del mondo diciamo che adesso siamo in un'epoca in cui la registrazione la parte più creativa di un lavoro musicale è più semplice da realizzare e le modalità in cui lo puoi fare sono molteplici cioè adesso pensare di fare un disco in una villa abbandonata è una cosa abbastanza cioè basta non è una cosa così allora sarebbe stato un grosso problema il fatto poi di usare i vani scala per fare le registrazioni tuttora chi fa il mio lavoro sono cose che cerca comunque cioè il suono è comunque un motivo di ricerca trovare un suono come registrare uno strumento in un modo piuttosto che un altro poi ci sono i riverberi digitali però comunque la presa microfonica è sempre una cosa appassionante che chiunque faccia il mio lavoro insegue io ho uno studio di registrazione da tantissimi anni ma ogni tanto scopro dei punti per registrare le cose che non avevo scoperto prima cioè da registrare fuori dalla casa in angoli insomma le possibilità sono parecchie e questo è un motivo di ricerca che c'è sempre legato all'acustica poi scusami poi ripeto il fatto che le tecnologie di adesso diano delle possibilità maggiori dà anche la possibilità di immaginare un processo creativo proprio nel momento della produzione è completamente diverso dallo standard dell'entrare in studio registrare le varie tracce e mixare il disco in un modo più conforme cioè abbiamo talmente tante tecnologie a disposizione che il problema è la fantasia non sono le macchine mentre una volta il problema erano proprio le macchine oltre alla fantasia la capacità di creare mondi diversi insomma scusa da un punto di vista storico si è lavorato sugli ambienti naturali quindi degli studi di registrazione fino a quando è arrivata la tecnologia digitale con la tecnologia digitale abbiamo incominciato a ricostruire strumenti e ambienti in formato digitale e abbiamo tralasciato completamente diciamo l'ambiente come diciamo la ripresa microfonica per la ripresa ambientale e abbiamo ricostruito gli ambienti in forma digitale ok abbiamo anche sostituito gli strumenti le batterie non suonavano più erano batterie elettroniche quindi abbiamo sostituito completamente l'ambiente reale acustico negli ultimi anni con la ripresa in qualche modo di una visione un po' umanistica direi dell'approccio alla musica in studio tutti gli studi hanno ricominciato a rivalutare la ripresa microfonica come elemento di costruzione del suono cioè il suono si ricostruisce con il posizionamento dei microfoni in ambienti diversi riprendendo sperimentare cosa che Stefano ha sempre fatto ma altri no avevano interrotto di fare infatti le sale di ripresa erano diventate più piccole poi hanno ricominciato a rivalutare questa cosa hanno riportato le orchestre quando possibile all'interno degli spazi eccetera parallelamente il digitale si è sviluppato verso la cosiddetta convoluzione cioè la ricostruzione artificiale di spazi reali riproposti poi in studio tipo i Pink Floyd che suonano a Pompei hanno fatto un campionamento digitale dello spazio dell'anfiteatro Pompeiano hanno costruito un modello digitale ora se tu vuoi simulare un tuo mix all'interno di Pompei come dove avevano suonato Pink Floyd usi quel modello di convoluzione quindi c'è una come dire una virtualizzazione dello spazio reale qui si aprirebbe tutto il discorso della virtualizzazione in generale del mondo che ovviamente ha coinvolto anche la musica ma ci fermiamo nel senso che però quello che dici tu fa parte di questa ripresa cioè c'è stata un'interruzione in era digitale quando c'è stata la sbornia proprio del digitale c'è stata una ripresa della riqualificazione dello spazio acustico e della sperimentazione quindi assolutamente in questo momento c'è quella cosa ma parallelamente c'è questa polarizzazione che da un lato c'è la ripresa del rapporto col mondo reale e dall'altro c'è l'apertura di un mondo virtuale dove invece si spinge a mille la simulazione di spazi che non esistono o che esistono ma vengono diciamo virtualizzati questo dal punto di vista storico non so se hai aggiunto degli elementi chiarissimo grazie vorrei dire qualcosa scusa ho aggiunto questa domanda abbiamo una nota così sulla coda mentre le mani si scaldano per alzarsi che vedo non ho visto così no è che questa cosa qua avviene anche per esempio nella riproposizione in realtà virtuale in realtà aumentata degli effetti sonori e anche nel posizionamento dei sistemi immersivi Atmos e suoni cioè io creo un ambiente virtuale ricampiono questa stanza e poi inserisco degli eventi sonori all'interno di questa stanza virtualmente in quel caso poi chi partecipa diciamo chi vede il film partecipa all'esperienza VR o al videogioco eccetera mentre si muove sente l'effetto riprodotto diciamo con questa modalità virtualmente sì una domanda volevo fare tutte queste cose che avete detto stasera che in pratica gli studi adesso cioè in registrazione hanno tantissime cose a disposizione per poter realizzare delle cose incredibili che poi alla fine è l'idea che poi fa nascere eventualmente canzoni nuove musiche nuove ma la mia impressione è che la musica ormai adesso sia tendendo a un appiattimento generale un po' per soddisfare il mercato un po' per rendere tutti contenti cioè tutte queste cose che si avevano sentito stasera tipo i Beatles facevano degli arrangiamenti incredibili erano in quattro oppure hanno fatto delle cose bellissime adesso tutte queste cose messe insieme riusciranno a salvarci un attimino da questa tendenza all'appiattimento o siamo proprio destinati a una musica che di nicchia magari uno va a ascoltare musica jazz o va a ascoltare certe cose particolari ma nella massa l'impressione mia è che si stia perdendo tutte queste cose belle che abbiamo detto stasera io ho una risposta doppia cioè da un lato se vogliamo vedere come dire noi trattiamo di una cosa che ovviamente ci emoziona fortissimo però chiaramente diciamo nelle come dire scala dell'agenda mondiale non so adesso stanno arrivando in questi giorni gli extraterrestri si arrivano veramente probabilmente no chissà com'è che musica ascoltano loro quindi siamo proprio in un angolo e se dobbiamo osservare con un punto di vista appunto pessimista l'esistenza chiaramente tutto sarà un disastro e andrà tutto malissimo compresa la musica dall'altro lato esattamente come ci sono le persone cioè ci siamo noi adesso qua oggi e poi immagino che ognuno di noi abbia qualcuno che gli sta simpatico gli vuole bene ci saranno delle persone che faranno qualcosa che lo stanno già facendo probabilmente mentre noi siamo qua c'è qualcuno che sta registrando qualcosa di pazzesco quella cosa lì esiste l'unica filtro a mio avviso cioè l'unica filtro l'unica bussola è cercare di trovare un aiuto un consiglio degli amici qualcuno che ci aiuti a un po' filtrare e trovare delle cose l'unico tema molto secondo me molto evidente rispetto a un tempo in cui siamo bombardati di cose guidate dai meccanismi numerici dove il marketing è molto forte e diciamo l'unica salvezza è il recupero della curatela cioè il recupero di qualche umano sensato che ne sappia più di noi io lo faccio continuamente trovare qualcuno che ne sa qualcosa e dice ma cosa ha ascoltato ultimamente cosa mi dici perché purtroppo l'algoritmo è sempre sviluppato per riprodurci quello che lui pensa che a noi piace ma normalmente il bel consiglio ce l'ho da qualcuno che invece ci fa trovare una strada eccentrica quindi questa cosa ci sarà sempre l'orrore quello lì è sempre grosso e dominante però ci sarà sempre anche la meraviglia bisogna farsi aiutare o cercare in qualche modo delle sponde che ci aiutino a trovarle sì banalmente confrontarsi il più possibile nel mondo reale con le persone no perché magari magari anche solo parlando ci si aiuta a vicenda non necessariamente uno deve essere più bravo dell'altro ma anche la radio vi sottolineavo alla giornata della radio la radio ogni tanto c'è qualcuno che è bravo la radio i podcast le playlist i mix le web radio la radio è tutta radio anche la radio anche la radio web o non web buonasera buonasera grazie Piero io volevo dire una cosa molto breve innanzitutto ho apprezzato moltissimo tutto quello che avete detto io sono un grande appassionato di musica sono stato a Abbey Road a fare ho fatto un doppio cd a Abbey Road in quegli studi lì dove c'è la scala che sale allo studio alla sala di controllo ma soprattutto io ho cominciato fin da bambino a seguire la musica e a interessarmi alle registrazioni per cui ho cominciato proprio andavo in colonia al mare la mia prima esperienza fu quella di suonare ciao ciao bambina con l'armonica a bocca in una sopra un disco fatto da una cartolina che poi veniva spedito fatto con l'incisione come vi ho detto voi e poi niente poi nel corso degli anni ho fatto delle mostre di gramofoni da Edison ai Beatles dove mi sono ho messo in mostra tutte le apparecchiature sono stato anche a vedere la casa di Thomas Alva Edison nella casettina in mezzo sperduto in mezzo agli Stati Uniti ma la cosa che voglio dire avete raccontato una cosa meravigliosa quello che è stato un peccato di vedere poche persone interessate evidentemente ma non ho visto un musicista almeno di quelli che conosco io a Brescia siamo capitale della cultura perché una serata così doveva esserci un pienone e questo lo dirò in giro ho notato che qui non c'è stato quello che io mi aspettavo una certa affluenza ed è un peccato io uspicherei che voi poteste tornare qui e raccontare un po' quello che avete raccontato questa sera avete parlato di studi di registrazione voi pensate che sotto il mio studio dove io lavoro attualmente c'è stato il banco che viene dal castello di Carimate dove ci hanno registrato i più grandi musicisti italiani abbiamo presentato poc'anzi due o tre giorni fa il libro di Fofo Bianchi che io prima mi sono sbagliato perché giustamente mi chiamano Rodolfo per cui lo chiamano così è quello che ha registrato tutti i più grandi successi da Gianni Morani parliamo della musica leggera degli anni 60 l'RCA i via Timurtina e le storie tese ha fatto dal vivo sì sì poi diciamo io mi sono interessato nel 68 a fare il sound on sound usavo due registratori un Philips e un Grundig e registravo in un registratore poi facevo uscire il suono di un altoparlante e poi mi mettevo vicino con la chitarra e facevo la seconda traccia poi finalmente ho comprato un Philips a quattro piste poi ho comprato un Thea 24-30 a quattro piste poi ho fatto il Fostex a quattro piste e poi ho smesso di suonare perché col Fostex una volta mi ha dato un Lars in un orecchio e mi ha rovinato un timpano perché la mia carriera finì lì la mia carriera discografica fu nel 1968 quella di registrare con un Ampex quattro piste con i nastri alti così a Milano quando in America voi sapete c'erano già i dodici piste negli studi di Nashville nello studio B dell'RCA e i Beatles facevano Serge and Peppers col quattro piste sincronizzando due studi a mano come io ho avuto il piacere di conoscere George Martin lo intervistai due volte andai a trovarlo intervistai Ken Townsend che fece Why Don't We Do It In The Road con i Beatles nel 68 sul White Album per cui ho avuto veramente la possibilità di toccare con mano queste cose meravigliose e quelle due cose che ha detto quel signore lì dicendo dove stiamo andando quando i Beatles con quattro piste hanno fatto quello che hanno fatto e poco dopo nel 68 hanno fatto il White Album e io lì ho veramente sentito l'eccellenza assoluta di quello che i quattro ragazzi che poi tra l'altro litigavano per cui andavano in sala di registrazione separati uno andava a fare la chitarra l'altro andava a fare la batteria Ringo Starr scappava da qualche parte per cui quello che io auspico siccome devo scrivere seguo il festival di Sanremo da 40 anni perché io sono sempre stato a Sanremo fino a quest'anno poi siccome hanno cambiato la sala stampa dall'Ariston a portata al Casinò ho pensato di non andare a Sanremo perché proprio ieri hanno tutti auspicato che venisse che venga riportata alla vecchia sede dell'Ariston io non so che cosa scrivere scriverò che il festival di Sanremo è stata una grandissima cosa fatta da Dio diciamo dal punto di vista organizzativo ma se devo dire quale canzone mi sia piaciuta credo che non me ne sia piaciuta neanche una dal mio punto di vista di musicista io suono musica o sono cresciuto ascoltando da bambino la musica lirica perché mia mamma cantava faceva studiava canto lirico poi ho scoperto il rock and roll negli anni 50 e poi ho scoperto i Beatles e da allora la mia vita è cambiata io vivo da Dio anche se ho superato i 70 da un bel pezzo però sto molto bene perché ho un bagaglio di roba registrata con quattro piste perché poi fino agli anni fine degli anni 70 si registrava quasi sempre su quattro piste per cui quello che è stato fatto allora è quello che i ragazzi di oggi ci invidiano perché noi che siamo anziani abbiamo vissuto un periodo irripetibile e io mi auspico che ci sia veramente un nuovo messia nel campo della musica che inventi qualcosa che mi hanno fatto i Beatles però purtroppo mi rendo conto che i Beatles sono nati in un periodo in cui si registrava con i tecnici in camice bianco e questo lo dice lungo sulla serietà di quando si faceva la musica i talent scout che una volta scoprivano i Lucio Battisti e questi personaggi qua che ci hanno fatto sognare non esistono più oggi i talent scout sono ex direttori non so di qualche solumificio so che ci sono dei discografici che hanno dei precedenti nell'industria delle scatole scusa qui il discorso si va veramente lungo se tu incominci no 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 infatti mi taccio subito non era una critica terra per dire che stai prendendo tanti di quei di quelle possibili strade certo veramente dovremmo organizzare una serie di incontri volevo solo rispondere alla prima considerazione che hai fatto certo si si scusate no 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 figurati per dire che l'idea è quella di fare in modo che questo incontro possa avere una serie di ripetizioni peraltro proprio oggi parlavo con loro dicendo che avendo io a disposizione una testata che si chiama music edu che va all'interno delle scuole di ogni ordine grado un'idea poteva essere quella di proporre questo incontro anche nelle scuole nelle nuove generazioni anche per arrivare al discorso che dicevi tu alla fine perché la cosa importante è la consapevolezza cioè non possiamo neanche far sentire questi ragazzi degli sfigati no perché questo discorso no ecco però perché il discorso è bisogna dare ai ragazzi la possibilità di costruire un proprio futuro cioè di non di guardare cosa è stato quello che abbiamo vissuto noi no quindi raccontarglielo ma sperando di dargli degli strumenti per fare per darci un calcio nel sedere mi verrebbe di dire a me cioè no perché ci sarebbe bisogno proprio che noi ci mettessimo da parte finalmente posso dire un po' secondo me in un momento che adesso girano tanto gli youtuber comunque come si dice che trasferiscono le loro conoscenze ma soprattutto parlano di plug-in di digitale ma di iper digitalizzazione insomma il segreto nel plug-in forse servirebbero anche un po' di corsi più di questo tipo che spieghino veramente cos'è la macchina cos'è cos'è che ci sta dietro che non è solo il codice binario che che traduce insomma l'onda sonora e quindi secondo me dovreste un po' mettere magari le vostre conoscenze o aiutare ragazzi più giovani a capire meglio la musica anche senza seguire solo i plug-in ecco dacci tu qualche indicazione per farlo no perché una delle problematiche è trovare un come dire un canale di comunicazione con voi quindi perché per ridurre queste distanze scusami mi avrebbe da dire proprio di riuscire a parlare come tu stai facendo ma adesso io giù vengo da te e ci raccontiamo perché tante volte questa cosa che arriva dagli youtuber in generale è un lavoro su cui io sto lavorando anche dal punto di vista editoriale è che loro sanno esattamente come funziona quella cosa ma gli manca un percorso diciamo di connessione tra le cose perché sono molto concentrati sulla cosa che devono fare c'è una grande specializzazione no e hanno bisogno di fare quella cosa lì e non se ne esce se non si esce dall'aspetto marketing mi verrebbe da dire perché se tu hai come obiettivo quello di quantificare il lavoro che stai facendo quindi come youtube deve avere i follower i like quella roba lì ti distoglie da un lavoro di mi fermo rifletto penso e decido dove andare perché se io devo inseguire no si dice che la Ferragni si è andata a Sanremo perché stavano calando il numero dei follower rispetto ad altri strafighi che stavano crescendo e dopo aver detto no a Sanremo per anni si è andata per poter ritirare su al di là di che sia vero o no questa cosa però l'idea che quello sia l'obiettivo cioè di tenere alti i numeri crea delle grandi difficoltà nel dialogo sui contenuti non è che i contenuti nostri siano migliori dei loro e che spesso gli youtuber non hanno il tempo per riflettere su quello che è cosa che interessa loro e non al mercato questa è questa è una mia riflessione sì io faccio una diciamo un'assist laterale cioè invece per me è il tema principale che se ci concentriamo troppo sulla funzionalità dello strumento cioè lo strumento è uno strumento cioè se tu non sai cosa dire non sai a chi vuoi dirlo come vuoi dirlo eccetera è come se io facessi un corso di matita o un corso di pennerella a me piacciono gli evidenziatori ti faccio un corso un tutorial di evidenziatore di acquarello acquarello ma senza farti fare dei disegni e il plug-in funziona così c'è una società molto polarizzata sul pensare di poter avere una soluzione già cotta pronta ricerca trovo faccio imparo senza passare da per esempio come vedevamo prima il porta studio registrato che vai lì e sbagli tutto poi lo devi rifare lo devi capire ecco la problematica io ne parlo molto con i miei studenti allo IED che appunto vengono a fare un corso triennale che comunque è molto impegnativo e io dico allora se voi pensate venite per imparare un programma voi avete internet i manuali fate fate da solo se vogliamo trasmettere qualcosa ci deve essere un obiettivo un obiettivo anche fatto della ricerca per esempio del fallimento a cui seguono cioè anche dell'errore dell'errore cioè fallire sbagliare capire scegliere mentre in una società troppo performativa in cui l'idea è che io velocemente devo saper fare tutto professionale uguale copiato e chiaramente lì è quel destino di cui parlavamo prima dove gli alieni ci distruggono eccetera perché non siamo capaci di fare un disegno io vi ringrazio per questa serata che ho trovato veramente molto interessante mi associo a Gianbelli nel rammarico che la sala non fosse piena soprattutto di giovani di cui tanti giovani musicisti che oggi affrontano l'home recording e ne conosco tanti e che magari avrebbero potuto imparare qualcosa da questa serata però volevo fare una mia valutazione e confrontarla con voi con la vostra esperienza non so se avete letto il libro di David Byrne la musica come si fa la musica ecco e il mio approccio parte anche sempre da una visione marxista della 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 produzione e ho sempre riscontrato che la tecnologia e la musica che essa produceva sono sempre andate di pari passo da una parte c'era la sperimentazione c'era la ricerca c'erano gli studi Philips che sin dalla fine dell'ottocento studiavano le onde magnetiche il suono e venivano fuori grandi sono venute fuori grandi cose ma poi è stato il mercato a dettare dettare là e il mercato con la sua evoluzione con la sua evoluzione tecnologica ha poi determinato anche il tipo di musica nel senso di musica soprattutto popular che ne derivava ecco e volevo confrontare questa mia visione con la vostra so che qua si potrebbe aprire una nuova conferenza e c'è tanta gente che voglia di andare a casa comunque questa era la mia sollecitazione rispondo velocemente perché poi appunto questo probabilmente lo facciamo nel capitolo 2, 3 e 4 evidentemente il tema è enorme noi diciamo anche nelle nostre lunghe conversazioni di preparazione abbiamo messo lì delle cose chiaramente gli angoli di ascolto di osservazione sono tanti cioè come Bern o molti altri diciamo chiaramente la musica vi ho parlato all'inizio è un fatto che investe tutti i sensi i sensi di chi la fa chi la regista chi la ascolta chi la trasforma chi la distribuisce c'è un sacco di roba su cui parlare ne riparleremo direi proprio grazie a tutti grazie 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 Grazie.